Tutto ok allora? Lui non può avere la lezione adesso Strano, ci sono quanti punti dal salvatore dicono Tutto l'altro... E com'è tema di tutto? Ah, non hai idea Clampi i capelli! E adesso a cominciare le nenne E approccio! Un portofuolo... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.